No, è una donna falsa e queste due sono fanno parte del mio prego, non ti fanno stare bene, ma perché ci sono passati così, non ti vengono passati. Piano Vito, Piano Vito. Si chiama Nicolcina non può andare. Si chiama Nicolcina non può andare. Vero? C'è negli anni giovani, così hai la possibilità di andare ancora avanti, perché potremmo fare certi nuovi cultura, spiriti, cultura che hai lontano. ... ... Grazie a tutti